Allora, due giovani interessanti. Ferrara da una parte, Corrente, Michele lo sottolineiamo, da non confondere con il fratello, ma non per qualche cosa, non me ne voglia, naturalmente. Angelo Corrente, due giovani interessanti l'anno scorso nel campionato provinciale, molta evidenza addirittura poi far parte della rappresentativa, forse qualcosa di più, qualche minutaggio per Ferrara, un po' meno per Corrente. Ferrara, c'è stata anche la possibilità di farti vedere nella Serie C2. Sì, ringrazio Giambiolo De Clemente che mi ha dato la possibilità di farmi giocare in C2 per mostrare il mio valore. Bene, invece una battuta anche con Corrente, è giusta, è doverosa, tu sei un po' più piccolino, però nonostante tutto cerchi di lottare, di emergere in mezzo a tanti ragazzi. Sì, cerco di dare il massimo ogni volta che il mister mi chiama in campo, infatti anche io voglio ringraziare il mister De Clemente per avermi dato questa grande opportunità. Bene, allora è tutto con Ferrara, con Corrente l'abbiamo strappati dall'abbraccio dei compagni, anche se c'è stata questa sconfitta, comunque elogi ai due campioni e da Palaborelli, Daniele Porcelli, vi saluta. Grazie a tutti.